Il Meteo è presentato da Ristorante da Kira Gas Con monta e risparmio siamo aperti tutto l'anno Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il Meteo Dopo questa lunga fase di caratterizzata da condizioni di tempo instabile dovuta alla presenza di un vortice depressionario sull'alto Tirreno nei prossimi giorni il campo barico tenderà leggermente ad aumentare tuttavia ancora infiltrazioni di aria umida e fresca dai quadranti nord occidentali manterranno attive delle moderate condizioni di stabilità specie durante il pomeriggio sulle zone interne Per la giornata di venerdì avremo cielo inizialmente variabile con maggiori addensamenti sui settori appenninici. Nel corso della giornata gli addensamenti si faranno più diffusi ed associati a locali piogge e rovesci anche a carattere temporalesco che dalle zone interne interesseranno anche la fascia costiera verso sera. I venti saranno generalmente deboli o moderati occidentali il mare generalmente poco mosso. Le temperature per la giornata di venerdì saranno stazionarie o lieve calo nei valori massimi, compresi attorno ai più 14-15 gradi sulle aree collinari e attorno ai più 17-18 gradi sulle aree costiere. Per la giornata di sabato avremo condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con qualche cumulo sparso sulle aree appenniniche. Durante il corso del pomeriggio tenderà ad aumentare la nuvolosità cumuliforme sulla dorsala appenninica dove potremo ritrovare locali brevi e rovesci in esaurimento nel corso delle ore serali. I venti saranno generalmente deboli di direzione variabile con locali rinforzi dai quadranti occidentali sulle aree interne, mare generalmente poco mosso. Le temperature per la giornata di sabato saranno in lieve aumento specie nei valori massimi che sulle aree pianeggianti potranno toccare anche 19-20 gradi. Infine per la giornata di domenica avremo ancora condizioni di cielo sereno poco nuvoloso nelle ore del mattino, mentre durante il pomeriggio ritroveremo la solita instabilità pomeridiana ad interessare soprattutto le aree interne appenniniche dove si potranno verificare nel corso del tardo pomeriggio di inserata locali rovesci temporaleschi in parziale sconfinamento verso i settori costieri. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste e locali rinforzi dai quadranti occidentali sui settori appenninici, il mare generalmente poco mosso. Le temperature per domenica saranno stazionarie o nell'ulteriore lieve aumento nei valori massimi con punte attorno ai più 20-21 gradi nelle aree di fondo valle interne e sulle zone costiere. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.